Al Mediolanum Forum di Assago e ricordiamo che la finalissima della World Cup sarà ancora quest'anno a Milano dal 21 al 23 giugno prossimi. Sì, sarà davvero interessante. E allora eccola al cerchio Viola Sella. Per lei oggi doppio compito, poi la vedremo anche alle clavette. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.